Secondo quanto riportato da D'Agostia, non è da escludere la possibilità di un rientro delle sorelle Selassiei nella casa del grande fratello. Queste ex concorrenti, già protagoniste della sesta edizione del GF VIP, avevano conquistato il pubblico, con Jessica che è riuscita a vincere il programma. Le sorelle Selassiei è pronte a tornare nel reality? Il percorso dei concorrenti attuali nella casa del grande fratello continua, alimentato da recenti sviluppi, come la notizia di Ila, che ha dovuto lasciare il programma a causa di una gravidanza inaspettata. Le dinamiche si fanno sempre più interessanti, e i residenti, tra cui Jessica Morlacchi, iniziano a speculare su un possibile ingresso di nuovi partecipanti. Nella rubrica, Pillole di Gossip, curata da Ivan Rota, si parla proprio di un potenziale clamoroso ritorno delle sorelle Selassiei. Sebbene si tratti solo di rumor, il giornalista ha rivelato che le tre sorelle si sono incontrate a Milano per discutere di un presunto incontro di lavoro, lasciando spazio all'immaginazione su un possibile rientro nella casa. Si sa che a volte ritornano, a Milano le sorelle Selassiei si sono ritrovate e hanno parlato di un incontro di lavoro imminente. Potrebbe esserci in ballo il loro ritorno al grande fratello? Ha affermato Rota? Al momento, tutto ciò rimane un semplice interrogativo privo di risposta. Le sorelle, Clarissa, Lulu e Jessica, avevano partecipato insieme al GF VIP 6 e, dopo un periodo come un'unica concorrente, erano state divise. Jessica, in particolare, ha dimostrato la sua determinazione arrivando fino alla vittoria. Per ora, le voci rimangono suggestive, come riportato da Dago Spia, ma chissà se ci saranno davvero novità e sorprese nel corso del grande fratello.